Un fiume di rifiuti scorre sotto il ponte della variante 7 bis in via molinelle tra Mercogliano e Motteforti Irpino, a pochi metri dal torrente Fenestrelle. I responsabili dello Scempio, come ci hanno segnalato le guardie ambientali del Nogez e i volontari di Irpinia in movimento, hanno diverto la recensione e stavata a margine della strada per poter sversare i carichi di ingombranti. L'ennesima discarica a cielo aperto, una maxipattumiera ingrossata da rifiuti di ogni genere, formatasi nel tempo e nell'indifferenza di tanti, a ridosso di un corso d'acqua e poco distante da contratti infornati, la nata e cupamacchia ex oasi della Valle dei Molini, diventata sempre di più meta dei pirati dell'ambiente. In questa discarica che si trova sotto a un ponte abbiamo rivenuto varie tipologie di materiali, da quelle del risultato dell'edilizia a buste contenenti in montizia, pompe che vengono utilizzate per l'acqua del fiume, guaina. Tutto l'acqua è un materiale molto pericoloso e quindi va rimosso da parte del comune di Monteforte Irpinia. Tra l'altro c'è anche un fiume che scorre proprio in questo tratto. Il fiume altrimenti è pulito, non ci sono problemi, però questo materiale piano piano potrebbe anche andare nel fiume. Stiamo in monitoraggio un po' tutte le aree che alla fine stiamo riscoprendo, tutte le discariche abusive di materiali come potete vedere, edilizzi, plastica, gomma, guaina, bidoni, carcassi frigorifere, quindi alla fine comunque danneggiano anche a pochi passi dal centro e cose. Quindi tra i due confini Avellino-Monteforte, quindi alla fine sollecitiamo gli interessati a poter porre fine a questo scempio di degrado ambientale. Tra l'altro è stata diventa anche la recensione, gli autori di questo scempio hanno arrecato un altro danno. Quindi gli autori hanno molta accessibilità in quanto la rete è stata tagliata per buttare gli ingombranti che poi alla fine tutti i materiali di qualsiasi tipo in quest'area sottoposta al cavalcavia dell'autostrada.